Trenitalia promuove tra le 5 località turistiche Fontane Bianche. La località turistica di Fontane Bianche insieme a quella di Tusa, Giovese Maria, Santa Teresa di Riva e Taormina sono state promosse da Trenitalia. Quindi sono queste le 5 località inserite tra le spiagge del mito che Trenitalia ha deciso di sponsorizzare. Dalla nostra destinazione ci parla di sito ufficiale di Trenitalia, il treno è la soluzione più economica e veloce, si evince sul sito di Trenitalia. Un primo passo verso l'utilizzo e la rifunzionalizzazione della stazione di Siracusa e della nostra destinazione si parla sul sito ufficiale di Trenitalia. Il treno è la soluzione più economica e veloce, si evince sul sito di Trenitalia. Un primo passo verso l'utilizzo e la rifunzionalizzazione della stazione di Siracusa del treno, quale mezzo di trasporto pratico, economico ed ecologico. I treni dovrebbero percorrere la tratta in 15 minuti circa per un costo di 2,50 euro a corsa, 5 euro andate e ritorno. Il tutto con una serie di collegamento tra la città e il mare che dovrebbero prendere il via alle 11 del mattino, mentre l'ultimo treno da Fontane Bianche verso la città dovrebbe essere intorno alle 21. Grazie all'associazione Io amo Fontane Bianche, noi albergatori Siracusa, tutti i privati, hotel, lidi, ristoranti e agricolturismo e ovviamente al responsabile commerciale Trenitalia che nei mesi scorsi hanno collaborato alla realizzazione di questo primo step. Un progetto che vedrà la sua realizzazione completa la prossima stagione a partire da maggio 2019 con un pacchetto di offerte dedicato e speriamo con l'attivazione delle corse da e per Fontane Bianche nei giorni festivi e la domenica.